Allora, noi oggi andiamo dal Presidente incaricato Draghi, parliamo con lui, dopodiché ci riuniremo, parleremo, discuteremo oggettivamente di queste iniziative, ribelli non ribelli, noi siamo in Parlamento, abbiamo una responsabilità richiamata dal Presidente della Repubblica, quindi io penso che su questo solco, che è quello della responsabilità, ci dobbiamo muovere tutti. Ci sono anche parlamentari i suoi colleghi, non ho dubbi, voglio dire, la cosa importante è muoversi nel solco della responsabilità richiamata dal Presidente della Repubblica, questo è l'appello che ci è stato fatto e i partiti devono rispondere, perché è evidente che oggi siamo in una fase successiva e bisogna capirlo il più presto possibile. Oggi c'è Beppe Grillo qui, che è un garante dei nostri valori e anche delle nostre procedure, quindi più garanzia di così, devono sentirsi tutti garantiti, ci sarà il voto su Russo, più di questo, guardi.